Eccoci. Allora, intanto nuovamente vi do il buon pomeriggio dopo la tavola rotonda di ieri sull'abusivismo. Oggi ci occupiamo, come sapete, del cliente, il cliente al centro, tra nuovi servizi e nuove professionalità. Vorrei però sottolineare due cose che sentivo adesso mentre veniva presentata questa ricerca sugli agenti immobiliari, perché forse è bene sottolinearle il dato dell'89% degli agenti che si sente professionista, cioè intende questa come una vera e propria professione sotto tutti gli aspetti, e poi secondo me è molto significativo e confortante il dato del 91%, cioè l'importanza che è irrinunciabile che ci sia questa posizione di terzi età. Questo lo dico perché siamo in una società, come sapete, soprattutto dal punto di vista politico, ma non soltanto dal punto di vista politico, che tende sempre di più a disintermediare il rapporto diretto, grazie anche ai mezzi della tecnologia. Invece in questo caso la figura del mediatore, quindi in questo caso dell'agente immobiliare, mi sembra molto importante. Prima, chiacchierando con alcuni dei nostri, dei partecipanti alla tavola rotonda, che adesso vi presento subito, dicevamo proprio questo. Poi la tecnologia aiuta moltissimo, no? In tutti i sensi, non solo a essere connessi, ma proprio a facilitare problemi pratici, però poi ci vuole anche una sorta di umanesimo oltre alla tecnologia, cioè c'è bisogno della voce, del contatto, della persona in carne e ossa che sappia darci consigli, che sappia indicarci delle strade, che sappia, insomma, in qualche modo anche prenderci per mano. Credo che questa professione come altre, in questa professione come in altre, ci vuole molto anche di, come dire, una quantità di psicologia, per capire le persone, perché l'acquisto, soprattutto, di una casa non è un momento semplice per nessuno, insomma, viene un po' d'ansia e quanto mai in questo momento c'è molta confusione, che non riguarda soltanto quella che poi, come sappiamo, l'abbiamo detto in molti appuntamenti, riguarda la tassazione, come sarà sulle case, che succederà, soprattutto per chi magari pensa ancora alla casa come un investimento. Però, mai come in questo momento, insomma, di confusione, di disorientamento, io credo che il vostro ruolo sia ancora più importante, perché, insomma, bisogna sapere molte cose. Peraltro, questo è stato detto, è stato ripetuto, l'ha affrontato anche il Presidente, insomma, è cambiato moltissimo dalla crisi ad oggi il ruolo dell'agente immobiliare. Prima l'obiettivo, la mission, era finalizzare la vendita. Oggi, appunto, bisogna sapere molte altre cose. Adesso mi viene in mente una cosa su tutte, forse la più banale, no? Tutta la certificazione energetica di una casa, prima, insomma, non esisteva ed era tutto più semplice. Oggi bisogna capire che cos'è, a che serve. C'è, peraltro, anche un mercato di autocertificazioni spaventoso che sicuramente conoscete. E, insomma, quindi, la gente deve essere molto più qualificato. Quindi, noi, i nostri partecipanti, credo che diranno delle cose molto importanti per capire anche, questa poi è la prima cosa che ci interessa, verso dove sta andando il mercato immobiliare. Qualcosa l'abbiamo detta ieri, qualche cosa la conoscerete, sentiremo con dei dati oggi, sentiremo anche un pochino, tasteremo il mercato internazionale, perché è molto importante, appunto, vedere quale orizzonte, breve o medio che sia, ci aspetta. Insomma, questo è molto importante. E poi c'è un'altra cosa che voglio sottolineare, magari qualcuno lo dirà, ne parlavo proprio col Presidente Righi, cioè oggi ci sono molte leggi, no? Che impediscono l'ulteriore cementificazione del territorio, e quindi bisogna lavorare molto sulla riqualificazione degli edifici, la riqualificazione urbanistica. Insomma, c'è anche un modo diverso di affrontare la vostra professione rispetto alle case, agli appartamenti che bisogna vendere e che bisogna riconsiderare anche in questa logica. Mi fermo qui e chiamo allora i partecipanti alla nostra tavola rotonda. Allora, Dario Castiglia, Presidente di Remax, potete venire a accomodarvi, a partire da lì, Roberto Barbato, il Presidente di Frim, Paolo Righi è qui, lo mettiamo qui con noi, Silvia Spronelli, che è Presidente di Solo Affitti, Luca Dondi, che è il responsabile del settore immobiliare di Nomisma, ma, peraltro, mi pare che abbia oltre trent'anni o trent'anni il rapporto immobiliare, che fate il focus sull'immobiliare così importante, il vostro osservatorio. Ermanno Grassi, il direttore generale di Itas Mutasi è già accomodato, Daniele Mancini, il General Manager di Regroup, che non vedo, qui si è appena seduto, eccolo, buon pomeriggio, Andrea Minconcelli, che è responsabile marketing cliente di BNL, ieri avete seguito, no, il faccia a faccia, che abbiamo fatto proprio con BNL Paribas, e poi Giorgio Spaziali Testa, eccolo, e però... Ah no, no, sono io che mi sono messo, sei abusivo, vedi, a proposito di abusivi, tieni, 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 ecco, il Presidente ha fatto l'abusivo, no, eccolo, va bene, noi incombiamo dietro di loro, ecco, va bene. Allora, io vorrei cominciare subito con Luca Dondi, perché forse cominciamo, no, questo incontro pomeridiano, parliamo un po' del mercato, delle previsioni, visto che voi avete un osservatorio, insomma, molto importante che da molti anni ci aiuta a raccapezzarci. Sì, intanto grazie, mi fa particolarmente piacere essere con voi, faccio i complimenti al Presidente Righi per il successo della manifestazione. Mercato, finalmente un po' migliore rispetto al passato. Abbiamo attraversato sette anni difficilissimi, sia a livello globale di economia, sia a livello di settore, forse a maggior ragione a livello di settore. Mentre a livello economico c'è stato un intervallo tra le due recessioni, il settore immobiliare e le costruzioni, non ha conosciuto pause nella recessione. Oggi siamo in un contesto decisamente più favorevole, abbiamo una prospettiva di crescita economica che in qualche modo conforta, soprattutto se vista alla luce degli anni precedenti. È chiaro che ha una crescita ancora timida, stiamo parlando dello 0,9%, l'1% quest'anno, qualcosa in più negli anni prossimi, per cui niente di trascendentale, ma è un primo elemento di novità. È bastato poco, è bastato una prospettiva di crescita economica, è bastato un atteggiamento del settore bancario ancora rigido, ancora selettivo, ma un po' meno rispetto al passato, per riavviare quel rapporto tra le famiglie italiane e la proprietà e l'acquisto immobiliare, o comunque in generale per la casa. E l'abbiamo visto dalle intenzioni di acquisto. Dal 2014 al 2015 sembra che sia veramente cambiato il mondo da questo punto di vista, perché si sono quasi raddoppiate le famiglie che hanno dichiarato l'intenzione di approcciare l'acquisto immobiliare. Non è che improvvisamente siamo diventati ricchi o chissà in quali agi navighiamo. C'è una diversa percezione riguardo alla prospettiva, ma c'è di fondo una fragilità e una debolezza. Molte di queste famiglie, circa 3 su 4, sono dipendenti dal settore bancario. Quindi c'è un riavvicinamento al settore che è dettato dalle condizioni di contesto e da una percezione di esaurimento della fase negativa, ma c'è dall'altra parte l'esito della recessione sui bilanci familiari. E questo è un elemento che connoterà i prossimi anni, non è un elemento transitorio. Per cui si stabilisce in questa fase, in una fase di miglioramento dal punto di vista delle quantità, ha un legame ancora più forte rispetto al passato tra le prospettive del mercato immobiliare, le prospettive del settore bancario e della volontà del settore bancario di concedere credito a questo settore. Su questo c'è un vantaggio, che è un vantaggio dettato dalle condizioni particolarmente favorevoli a livello di funding per le banche, quindi di riconoscimento di tassi vantaggiosi per le famiglie. Però c'è un retaggio della stagione precedente, che sono le sofferenze che le banche hanno ereditato da una stagione di eccessi, di sbagli, di sovradotazione di capitale a clienti che era evidente non fossero nelle condizioni di onorare quel prestito. E questo cosa comporta? Comporta una maggiore attenzione alla concessione di credito e un obbligo di gestione di partite in sofferenza che in qualche modo influisce sulla prospettiva. Per cui siamo in un quadro migliore, indubbiamente, in un quadro in cui le compravendite stanno faticosamente iniziando ad aumentare, non ancora nel primo trimestre di quest'anno, ma già nel secondo e anche nel terzo. L'anno si chiuderà con un ulteriore lieve aumento. È chiaro, siamo nell'ordine, nelle 420, 430, forse 440 mila compravendite. Il mercato immobiliare italiano nel 2006 era 870 mila compravendite. Ecco, quella stagione non tornerà. Dobbiamo avere dei nuovi riferimenti. E i nuovi riferimenti sono di un mercato che starà nell'ordine delle 450, 500 mila compravendite per i prossimi 3-4 anni. Dal punto di vista dei prezzi, invece, qual è la prospettiva? La prospettiva è una prospettiva coerente con la fragilità dei bilanci familiari. Si sta forse esaurendo la coda recessiva, che caratterizza ancora quest'anno, secondo noi anche parte del prossimo, ma non è alle viste una nuova stagione di aumento significativo dei valori immobiliari. Ci saranno ovviamente andamenti variegati, ma sostanzialmente la prospettiva è una prospettiva di stabilizzazione, di stagnazione dal punto di vista dei prezzi. Mi rendo conto che non sono dinamiche particolarmente accattivanti, soprattutto per chi, come la maggior parte di voi, ha conosciuto una stagione completamente diversa, ma è una stagione che credo vada dimenticata. Usciamo da una fase molto negativa, entriamo in una nuova fase, che avrà caratteristiche, come dicevo, diverse. Questo credo comporti un cambiamento nell'approccio, ma su questo forse ci sarà un... oppure vado avanti... Se c'è un altro dell'approccio importante, diciamolo. Sì, perché se il tema fondamentale è il tema credito, se la banca diventa uno snodo fondamentale per le prospettive del mercato e se il settore bancario, in particolare i primi grandi gruppi bancari, che sono due, si mettono a fare il facilitatore immobiliare, qual è il ruolo dell'agente immobiliare in uno scenario così modificato. Ecco, io credo che ci siano banalizzando e brutalizzando due strade. O si entra in quel sistema, cioè si diventa parte di quel sistema bancario che ha bisogno, ma ha bisogno di professionalità, della professionalità che richiamava Condò, ha bisogno di qualcosa di diverso, forse più standardizzato, semplificato. C'è remunerazione in quel sistema per la vostra professionalità? C'è interesse da parte del sistema bancario rispetto alla vostra professionalità? Ecco, non lo so, io ho qualche dubbio. E allora credo che la prospettiva debba essere un'altra. Ci sono due numeri, uno lo dava Condò, qual è la percentuale di non intermediato? Il 40, 45, 50%, una percentuale molto significativa. È una percentuale che in qualche modo deve essere aggredita. Il secondo elemento fondamentale è che il mercato immobiliare è un mercato prevalentemente di sostituzione. E questo non è un fatto trascurabile. Credo che in questa tavola rotonda ci siano moltissimi interlocutori che possono facilitare gli agenti immobiliari nell'intercettare la domanda prima che vada allo sportello bancario. Ci sono i proprietari, le associazioni dei proprietari, potrebbero esserci gli amministratori di condominio che sono un'altra realtà e molti di voi forse lo sono anche o comunque sono in network. Ci potrebbero essere i professionisti. Allora credo che il ruolo prima ancora degli agenti ma della federazione degli agenti sia quello di individuare le modalità per intercettare domanda in network, in rete, cioè non in competizione tra agenti ma profilando le caratteristiche della domanda e fornendo quelle che possono essere le risposte in termini di offerta. È un sistema che diventerà competitivo se non si vuole entrare nella galassia, nell'orbita banca. È chiaro che la banca deve essere una parte di questo sistema ma c'è anche BNL che è un primario gruppo per cui si può ragionare in termini serenamente competitivi rispetto a quel modello chiedendo alla federazione quindi agli agenti di avere un ruolo diverso che è un ruolo forse meno di rivendicazione politica ma è un ruolo più a supporto operativo ma credo che Paolo l'abbia ben chiaro e lo stia facendo parallelamente al resto per essere comunque protagonisti di questa nuova fase. Ha visto che era importante questa parte allora questa è una prima cornice poi solleciterò anche il presidente Righi che come me ascolta adesso con attenzione questa è una prima cornice ne vorrei sentire un'altra diciamo più di carattere internazionale da Daniele Mancini che ha un osservatorio diciamo riguardo al suo gruppo appunto internazionale per capire un po' verso dove stiamo andando Sì grazie grazie Paolo sicuramente io la fortuna ho sempre seguito diversi mercati tra cui l'Italia soprattutto adesso mi sto dedicando totalmente all'estero e quindi di andare nei diversi mercati e capire dove va il mondo digitale e dove va nel mondo immobiliare e come sfruttare il mondo digitale io sono molto tranquillo soprattutto nei mercati più avanti dal punto di vista digitale qui parlo dell'America parlo dell'Australia abbiamo il 100% degli agenti immobiliari non esiste il privato quindi abbiamo il 100% che le vendite passano tramite gli agenti immobiliari la tecnologia ce l'abbiamo lì ce l'abbiamo qui la grande minaccia che mi fa più paura non è il mondo digitale qui in Italia ma sono due che sono la collaborazione e l'esclusiva in questi mercati dove lavoriamo per esempio in Australia noi abbiamo il 100% dell'esclusiva non esiste un contratto non in esclusiva fatto queste due cose la tecnologia dopo ci va sopra e l'agente immobiliare è il fulcro di tutti questi nuovi servizi anche il mondo digitale sta evolvendo mentre prima vi ricordate i giornalini dopo i portali eccetera sempre di più si sta spostando verso nuovi servizi che è il tema principale di questo incontro vi faccio un esempio da noi in Australia è normale entrare nel nostro portale parlare ripeto abbiamo solo gli agenti immobiliari mettete l'indirizzo l'indirizzo il numero dell'indirizzo della via e anche il numero dell'appartamento l'indirizzo lì è parlante quindi via Ken Street 250 21 21 è l'appartamento mi trasferisco in quell'altro indirizzo quindi preciso e facciamo tutto fino a fare anche la voltura la luce l'acqua gas la televisione viene fatto tutto online ma con il supporto dell'agenzia immobiliare quindi bisogna capire come riuscire ad raggiungere questo sistema di qualificazione dei dati di avere un'esclusiva perché se non si ha l'esclusiva si ha perfino paura di investire su quell'immobile perché se no ce la ruba qualcun altro lì in questi mercati dove la tecnologia è molto avanti io non ho nessun problema anzi gli agenti immobiliari sono fondamentali il mondo sta andando sempre di più su questo sul mondo digitale se dovessi essere lavorato tanto nel mondo del turismo e parlare a degli agenti di viaggio lì sarei un po' più preoccupato ma nel mondo degli agenti immobiliari non c'è nessun problema perché sarà sempre più focale l'abbiamo detto anche prima sì siamo nel mondo digitale ma poi alla fine è fondamentale andare a parlare con delle persone che mi aiutino nella gestione di tutto il processo e il digitale non è nient'altro un aiuto però qua cosa significa che la professionalità è fondamentale ho visto prima due bei dati uno dell'esclusiva che ho visto più del 40% mi aspettavo totalmente altri dati personalmente dell'esclusiva due purtroppo ancora i dipendenti medi in Australia abbiamo circa 10 12 13 dipendenti medi dell'agenzia immobiliare cioè che cosa è successo si sono messi insieme alcune agenzie immobiliare hanno iniziato a condividere i costi e se si va in queste grandi aziende che sono le agenzie immobiliari tutto il primo piano è dedicato all'acquisizione con degli strumenti informatici quindi fondamentale l'acquisizione con tutta la parte internet e il secondo piano è dedicato certo alla vendita o si va in giro però e lì io vedo l'Italia non arretrata dal punto di vista digitale ma più dal punto di vista ecco come dicevo dell'esclusiva dell'unicità dell'immobile del del modo di utilizzare internet per per l'acquisizione quindi sono molto ottimista soprattutto adesso che abbiamo detto che sta ripartendo però significa uno studiare questi nuovi strumenti vedo anche dall'estero però è una nicchia certo andare a vendere gli immobili all'estero sì si possono vendere si possono affittare ma le straniere che vogliono vendere in Italia vuole tutti determinati servizi e non solo la casa quindi l'agente immobiliare ancora di più può sfruttare la sua presenza locale per andare a prendere sempre di più degli straniere che vogliono vendere in Italia bisogna capire come iniziare a creare e a sfruttare queste nuove professionalità questi nuovi servizi ma sono molto ottimista per l'agente immobiliare lo sentivo anche dal suo tono diciamo poi in alcuni paesi questo è più semplice io penso soltanto se un agente immobiliare deve pensare anche mi viene in mente una su tutte la bolletta elettrica adesso ci mettono il canone Rai dentro non si è capito come si pagherà ma questo è un paese strano come lei sa va bene allora c'è qualcosa che vuoi dire Paolo no? andiamo avanti ascoltiamo Dario Castiglia presidente di Remax vediamo un po' che cosa vuole dirci lui parliamo di franchising no? sì parliamo di Remax parliamo di franchising io sono onorato di essere qui perché devo dire noi siamo dentro in FIAP da vent'anni perché ci sono alcuni nostri affiliati qua presenti e quindi siamo sempre stati vicini alle alle associazioni qualche volta nel passato pre-righi le associazioni non erano così vicine ai gruppi franchising quindi sono lieto di essere qui in presenza anche di altre persone che rappresentano altri gruppi a dire la nostra su quello che sarà il futuro dell'agente immobiliare come la vediamo noi parto dallo spunto che ha dato Dondi di Nomisma su un mercato che continuerà a essere sì in ripresa ma in ripresa molto graduale quindi nessun grande entusiasmo su quello che sarà il mercato dei prossimi anni io ritengo che la soluzione non sia quella di diversificare la nostra attività ma anzi concentrarsi ancora di più sulla specializzazione in quello che sappiamo fare meglio di qualsiasi altra cosa perché vedo che molti cercano di trovare altre soluzioni di vendere altri prodotti questo secondo me sminuisce la professionalità dell'agente immobiliare invece dovremmo cercare sicuramente di essere elevare la nostra professionalità investendo in tutte quelle cose che sicuramente voi già conoscete la formazione le tecnologie come parlava anche Daniele Mancini e quindi continuare su quella strada certo è che guardando anche i dati che sono stati gentilmente concessi dalla FIAIP che ho visto prima il fatto che soltanto il 50 54% del mercato passi tra le nostre mani è un po' colpa nostra come agenti immobiliari premetto che io sono agente ho iniziato come agenti immobiliari nell'83 quindi più di 30 anni fa ho fatto questo mestiere quindi conosco bene da dentro cosa vuol dire essere agenti immobiliari e lavorare in questo settore dico che è colpa nostra qui in Italia perché il nostro mercato qui in Italia particolarmente in Italia e in altri paesi europei è molto frammentato mi faceva ho visto che la maggior parte degli agenti immobiliari sono rappresentati da una unità e sono delle ditte individuali quindi c'è una forte frammentazione nel mercato e questo ovviamente è un grosso problema perché di fatto è un mercato che non crescerà più di tanto è importante invece che si creino delle sinergie si creino delle economie di scala e questo passa soltanto tramite l'esercizio di massa critica cioè quindi il raggruppamento il lavorare insieme e questo lo dico a tutti voi perché qualcuno lo sta facendo qualcuno si sta mettendo insieme qualcuno si sta organizzando e questo è l'unico modo per far sì che si possa diventare più uniti e si possa creare sistema e si possa elevare la professionalità anche agli occhi del pubblico la collaborazione qui abbiamo delle persone che sicuramente fanno della collaborazione nel loro mestiere e sapranno dirvi di più su questo noi è un qualcosa che abbiamo sempre creduto noi siamo di matrice americana ovviamente laddove il mercato è praticamente passa tutto quasi tutto al 95-96% tramite gli agenti immobiliari e questo è dovuto principalmente al fatto che il 90-95% delle compravendite vengono fatte in collaborazione tra agenti immobiliari vi dico anche una cosa importante qualcuno si lamenta a volte dei portali i costi dei portali vi dicendo io ho vissuto in Canada come ho lavorato lì come agenti immobiliari in Canada per esempio i portali praticamente non esistono o perlomeno quelli che ci sono Realtor.com sono interamente gratuiti per gli agenti immobiliari perché gli agenti immobiliari non pagherebbero mai per pubblicizzare un immobile perché se li vendono tra di loro e i clienti vanno in agenzia vanno dalle agenzie immobiliari perché sanno che tramite gli agenti immobiliari grazie alla collaborazione che c'è tra gli agenti immobiliari otterranno dei risultati migliori che facendo la vendita da sé quindi questi sono elementi che secondo me continueranno a essere presenti e importanti per il nostro settore nel futuro il mercato si sta polarizzando non so se avete notato dei dati che avete citato poc'anzi che ci sono delle agenzie immobiliari ci sono degli agenti immobiliari che in questo periodo ultimo questi ultimi sette anni hanno aumentato il loro fatturato non sono tanti sono il 10 15% ma qualcuno ce l'ha fatta e bisogna capire perché perché quegli agenti immobiliari sono riusciti a incrementare il loro fatturato e capire anche che è pur sempre una piccola minoranza degli agenti immobiliari che sta facendo la parte del leone bisogna capire cosa fanno quegli agenti nella maggior parte dei casi quegli agenti si stanno aggregando stanno lavorando insieme stanno sfruttando la collaborazione quindi mantenendosi la competizione tra noi ma in maniera leale e collaborando nel momento in cui uno di noi ha preso quel benedetto incarico di vendita in esclusiva noi non lo chiamiamo in esclusiva lo chiamiamo in inclusiva perché quello dovrebbe essere un incarico che include tutti gli agenti immobiliari bisogna avere una visione a lungo termine per capire queste cose non si può guardare a medio termine io capisco che spesso e volentieri siamo pressati dall'immediatezza delle necessità dovute anche a fattori economici che ci rendono un po' miopi però dobbiamo avere il coraggio invece di guardare a lungo dobbiamo andare a lungo termine e quello che sembra una generosità nel collaborare col collega di fatto difenda un interesse per tutta la categoria questo è quello che io vedo come visione dell'agente immobiliare da qui al 2025 quindi un mercato che sicuramente premierà chi lavora bene e quel che vuol dire è che continuerà una scrematura perché se non torniamo alle 800 mila compravendite del 2005 2006 non potranno esserci lo stesso numero di agenzi immobiliari che c'erano 7-8 anni fa e se qualcuno in questo momento sta ancora diciamo sperando che cambi il tempo che cambi il mercato che ritorni quel mercato per me la notizia è che non cambierà così facilmente i dati di Nomis ma di altri confermano la nostra previsione questa è un po' la nostra visione del futuro sì poi peraltro insomma ce lo ricordano ogni giorno anche la politica ce lo ricorda spesso rispetto al mercato del lavoro che nulla tornerà come come era pre-crisi diciamo quindi questo fa il paio con quello che diceva lei per quanto riguarda le compravendite nel settore voglio coinvolgere Silvia Spronelli il presidente di Solo Affitti per capire se anche lei condivide e crede che questo appello a mettersi insieme Mancini diciamo ci faceva capire com'era la situazione soprattutto all'estero se sia diciamo una discriminante un punto cruciale questo di fare squadra e mettersi insieme o no? Sì innanzitutto credo di sì voglio dire che pensare alla 2025 per la nostra professione è sicuramente un salto di immaginazione abbastanza difficile da fare ma se penso a dieci anni fa quella che oggi è qui intorno siamo qui seduti per parlare di collaborazione e non di concorrenza faccia già la differenza il titolo è colpa e responsabilità di Paolo Righi ma lui vuole vederla giustamente un po' la visione peraltro insomma su questo podio insomma ci sono molti protagonisti del real estate questo è già un modo come lei sottolineava di dire parliamone tutti insieme sì assolutamente infatti prendo spunto proprio da questo per dire che quello che sarà il futuro dell'agente immobiliare secondo me è sempre di più la nostra professionalità e la nostra competenza e quello che dobbiamo fare noi agenti immobiliari è quello di mettere il cliente al centro della nostra attenzione e per mettere il cliente al centro dell'attenzione non vuol dire convincerlo addescarlo rabbonirlo ma vuol dire proprio informarlo vuol dire affascinarlo vuol dire renderlo consapevole dell'acquisto che fa e soddisfatto dell'acquisto che fa oggi parlare di agente immobiliare al centro dell'intermediazione di intermediazione è un qualcosa di fondamentale Mancini prima diceva nel settore turistico forse è possibile la disintermediazione lo vediamo anche nell'affitto io mi occupo solo di affitti e nell'affitto turistico sicuramente la disintermediazione può essere una cosa che avviene lo vediamo già oggi con Airbnb piuttosto che anche con il nostro portale immobiliare che si occupa di affitti turistici che sono affittivacanze.it in questo caso qui il cliente può scegliere l'affitto semplicemente basandosi su quella che è una recensione di un altro turista che ha visitato quell'immobile o dalla reputazione di chi glielo propone ma in questo caso qui è un affitto mordi e fuggi cioè se dobbiamo pensare a un affitto residenziale a un affitto commerciale e tanto più a una compravendita cioè non è sufficiente avere questa informazione qui è necessario che l'agente immobiliare sappia anticipare quelle che sono le esigenze del cliente sappia capirle sappia elaborarle e sappia dare le risposte giuste con la giusta competenza e con la giusta professionalità sì Mancini prego questo è un esempio Silvia infatti proprio questo oggi stanno nascendo le società parlavo ieri con una società di Los Angeles che ha messo su un affitto che sta cercando di fare concorso Airbnb Expedia ha comprato un Mayway la scorsa settimana per più di 400 milioni e stanno nascendo altre società che fanno siccome Airbnb non certifica vanno e hanno delle persone in giro in un determinato mercato delle persone che vanno lì vanno a vedere l'appartamento lo certificano e mettono il bollino cioè l'agente immobiliare tranquillamente potrebbe essere una persona che diventa il certificatore di quelle case in affitto che poi si affittano con Airbnb o con altri portali è quello che dico nuovi servizi oramai il digitale andrà nel settore degli affitti delle vacanze sicuramente ma anche lì l'agente immobiliare è in luogo è nel luogo e quindi non solo certifica la casa i servizi la brioche calda che organizza tutta la parte della ristorazione la parte del destination management è lì l'agente immobiliare ha una forza enorme che non ha il digitale ma su questo sono convintissima tant'è che anche la possibilità di sfruttare il turistico il settore turistico attraverso dei professionisti sicuramente è un vantaggio ulteriore che noi possiamo offrire al cliente perché gli diamo la certificazione dell'immobile della qualità dell'immobile e la professionalità di un agente quindi di una persona capace e competente che ha conoscenze che è in grado di certificarglielo quell'immobile e tutti i servizi attorno e tutti i servizi che stanno attorno esatto ho omesso di dirlo ma ovviamente il servizio è fondamentale cioè non è sufficiente per l'agente immobiliare come dire essere un facilitatore di mettere in contatto il proprietario con chi vuole vendere perché questo probabilmente lo riescono a fare anche i portali immobiliari cioè quello che è il valore aggiunto dell'agente immobiliare è la relazione che crea quindi la possibilità di farglielo vedere l'immobile ma non solo offrirgli anche tutti quei servizi e nel caso specifico nostro i servizi che possiamo offrire sono tanti ma vanno anche da quelli principali che sono la conoscenza della normativa il poter consigliare un contratto di locazione piuttosto che un altro il sapergli il saper dare loro le garanzie per poter essere certi che il canone d'affitto se non verrà pagato dall'inquilino poi potrà essere in qualche modo rimborsato da una polizza a garanzia della canone di locazione ci sono tanti gli strumenti dal comprafittando piuttosto che all'home staging oggi la figura dell'home stager parlavo anche prima con un'associata qui presente in sala è un qualcosa di molto diffuso cioè la possibilità per noi agenti immobiliari di rendere l'immobile del nostro cliente più affascinante quindi di poterlo anche affittare più velocemente e con maggiore soddisfazione per il cliente cioè sono davvero tanti i servizi che l'agente immobiliare deve offrire faccio un passaggio veloce però da Paolo Righi questo fatto diventate come la ragioneria generale dello Stato fate la bollinatura com'è? vedete un po' il paradigma no? Mancini ci ha detto una cosa ha detto l'agente immobiliare professionista e poi intorno gli strumenti quindi anche lui che lavora nel web vede la professionalità degli agenti immobiliari e gli strumenti a servizio no? Il problema è che seguendo un po' le discussioni del mercato immobiliare noi cerchiamo di demandare una sorta di responsabilizzazione agli strumenti il mercato cioè io tante volte sento la discussione sull'MLS sul portale cioè quasi che quello strumento ti faccia vendere cioè tu non fai niente sei un professionista scarso però hai una micro rete o una micro qualcosa e poi riesci a vendere allora il tema vero che secondo me i professionisti qui in Italia devono capire è che è proprio questo cioè la professionalità non può essere demandata all'uso di uno strumento il mercato non lo può fare uno strumento il web ti può aiutare a prendere fette di mercato importante a entrare sul mercato quando sarà passato il digital device cioè quindi quando avremo una popolazione digitalizzata no? quelli tra dieci quindici vent'anni quindi il tema vero qual è? è legare il professionista a quello che è lo strumento informatico e l'altro problema che abbiamo noi in Italia che a livello immobiliare siamo un mercato molto arretrato non siamo un mercato maturo è proprio quello della legislazione afferente perché se voi pensate che solo il 40% 40% mi sembra mi diceva il centro studi ma posso sbagliarmi degli incarichi sono in esclusiva vuol dire che tu professionista sul 60% del mercato non lo potrai mai andare a intermediare perché non potrai mai fare investimenti non potrai mai definire un progetto aziendale non avendo la scorta all'interno allora su questo tema c'è in Italia un discorso sul fatto dell'incarico scritto obbligatorio per legge perché c'è anche tutta una parte di incarichi verbali che vengono dati agli agenti immobiliari cioè l'incarico verbale è la preistoria del mercato cioè l'incarico verbale non non ci può più essere voglio dire no? però abbiamo tanti altri problemi allora il tema vero è e secondo me qui le associazioni gli associati i dirigenti le associazioni e tutti insieme dobbiamo aprire dobbiamo aprire un discorso serio perché noi come associazione riusciamo l'avete visto in questi giorni a fornire alla politica i temi di cui discutere però dobbiamo anche far crescere quella cultura in tutti i colleghi che è quella della della capacità di comprendere che siamo dei professionisti non siamo noi al servizio degli strumenti troppe volte la cultura degli alibi porta a demandare queste cose allora vado da Roberto Barbato il presidente di Frim visto che evocavamo anche la piattaforma informatica no? MLS di Fiaip andiamo la sua opinione anche diceva Righi no? non possiamo devandare tutta la tecnologia la digitalizzazione sicuramente la tecnologia sono d'accordo col presidente è un amplificatore del nostro segnale cioè ci aiuta ad amplificare quelle che sono le nostre potenzialità nell'ambito dell'agenzia e quindi diventa un amplificatore così come c'era l'amplificatore dello stereo però naturalmente ci devono essere dei segnali di fondo perché abbiamo segnale 5 ci amplifica 5 per 5 abbiamo segnale 1 ci amplifica ci amplifica 1 ma il punto fondamentale che vorrei un attimo fare una riflessione io ormai sono molti anni che ho il piacere di collaborare con questa associazione ci occupiamo di MLS FIIP e quindi principalmente dell'aspetto digitale generalmente di natura sono ottimista in questo caso lo sono un po' meno per quanto riguarda il discorso delle banche e ci terrei ancora a ritornare su questo argomento perché penso che la pagheremo cara se sottovalutiamo questo aspetto moltissime banche stanno piccole banche medie banche stanno aspettando le grandi cosa fanno cosa fanno alle grandi per poter entrare è già pronta Banca Veneto che entra anche lei con le agenzie quindi sappiamo benissimo che cosa si sta mettendo in moto quindi qual è stato fondamentalmente il cambiamento in questo settore anche nell'ambito della nostra professione noi siamo passati da una competizione individuale ma non solo noi abbiamo parlato dei taxi abbiamo parlato di tantissimi protagonisti del settore commerciale quindi siamo passati da una competizione individuale e dobbiamo dobbiamo passare invece a una competizione collaborativa cioè se noi vogliamo affrontare in maniera individuale questi nuovi player del mercato la vedo brutta è arrivato il momento di pensare in maniera collaborativa ecco perché noi spingiamo sull'MLS ma è molto semplice voglio dire voi basta vedere noi siamo una piccolissima parte della rappresentanza degli agenti immobiliari qui siamo siamo tanti professionisti anche io sono un agente immobiliare da 35 anni pensate l'agente immobiliare non solo ha le informazioni l'immobile da vendere il portafoglio cliente ma conosce la storia immobiliare del suo territorio della sua area ecco noi dobbiamo riuscire a metterle insieme queste risorse solo così ci possiamo contrapporre perché in effetti io non lo so ma mi è sembrato anche di capire dagli incontri con la politica che forse porteremo poco a casa dall'aspetto della politica quindi come al solito ci dobbiamo tirare sulle maniche e dobbiamo vedere una cosa a fare cioè ecco noi dobbiamo capire che dobbiamo unire queste forze cioè anche il fenomeno di tante agenzie che si aggregano si stanno mettendo insieme stanno cercando la collaborazione stanno cercando di diventare più forti cioè quello che voglio dire ragazzi se restiamo da soli con quelle percentuali dell'uno di agenzie così piccole e vogliamo affrontare colossi che hanno la possibilità di organizzarsi di preparare strumenti ed attività io penso che passeremo un altro periodo brutto in termini di attività quindi dobbiamo insistere noi parlavamo dobbiamo mettere il cliente al centro della nostra attenzione io penso che dobbiamo essere noi al centro dell'attenzione del cliente con i servizi che offriamo vi dico solo un'ultima cosa per quanto riguarda il concetto di MLS pensate negli Stati Uniti e qui abbiamo penso Mancini è un degno rappresentante della conoscenza di quel mercato pensate negli Stati Uniti sono gli agenti immobiliari che hanno già vissuto tanti aspetti e sono diventate una categoria molto forte cioè dopo a livello degli avvocati a livello di cioè è una categoria di conosciuto sono talmente gelosi delle loro informazioni immobiliari delle loro richieste dei loro immobili che collaborano esclusivamente nella categoria che addirittura sulle piattaforme MLS non c'è la possibilità di cercare immobili cioè loro non vogliono che i clienti possono accedere a quell'informazione quelle informazioni vogliono accedersi solo loro tra operatori per concludere le vendere perché chi ha l'immobile da vendere chi ha la richiesta e si fa business un po' come le borse titoli le borse titoli chi vuole vendere le azioni di un'azienda che non è quotata cosa deve fare deve andare a chiedere all'amico al commercialista all'avvocato un'azione quotata sta in borsa ecco se noi ci abituiamo a fare questo passaggio importante epocale che il nostro collega non è più il nemico non è più il concorrente ma è un potenziale collaboratore se campiamo questo paradigma allora la nostra categoria sarà anche riconosciuta più professionale noi non ci possiamo aspettare vogliamo il riconoscimento professionale ma io spessissimo ragazzi sento parlare per prima male dai degli agenti immobiliari dagli agenti immobiliari sì questo comunque è un male e non ci possiamo aspettare che i clienti anche in altre categorie che si parla male questo non riguarda solo gli agenti voglio dire è un po' meno è difficile che troviamo un notaio che parla male di un altro notaio di un farmacista che parla male di un altro farmacista tra i giornalisti glielo vorrei far sentire ma insomma vi risparmio il capitolo allora parliamo con le banca con BNL ieri peraltro io saluto risaluto Andrea Minconcelli ieri Tarantola ci ha spiegato anche lui che insomma stiamo piano piano uscendo da questa fase buia io credo che lei volesse però appuntare l'attenzione su un paio di cose una diciamo già è venuta allo scoperto che è tutto il mondo digitale dell'informatizzazione e poi anche il capitolo che riguarda il comportamento dei clienti sì prima prima di entrare quello poi peraltro è il tema su cui ci dovremmo confrontare riprendo un po' questo ruolo anomalo che le banche stanno prendendo in questo periodo la prima cosa la generalizzazione non è sempre è vera è sbagliata non tutte le banche qualche banca chi è più o meno organizzato per fare per fare certe cose chi più o meno ha necessità di fare certe cose e chi non ha una strategia specialmente quando parliamo di attività di questo tipo lo dico perché è un argomento che ha una forte correlazione con il tema che state sollecitando in modo forte della collaborazione BNL ha definito una strategia di lavoro forte che è la base su cui si poggia in modo sostanziale l'attività commerciale della banca che è quella della collaborazione quella delle partnership sarebbe non solo contraddittorio ma assolutamente folle se oggi BNL venisse meno a questo indirizzo seguendo quella linea ma questo perché questo avviene nel mercato immobiliare come avviene in altri contesti è una scelta solida quella di operare per lo sviluppo della banca in collaborazione con altri specialisti crediamo fortemente questo lo esprime l'intero gruppo a cui appartiene BNL BNP Paribas dove all'interno del gruppo ci sono tanti specialisti che sanno far bene un mestiere la forza del gruppo sta nel fatto che ci sono tanti specialisti che portano valore e ciascuno degli specialisti è bravo a usare le competenze dell'altro credo che questo vale anche nel nostro contesto BNL e FIAIP e gli agenti immobiliari traggono reciproco valore nella competenza l'uno dell'altro e per definizione la valorizzazione della partnership e della collaborazione è un elemento mi permetterei di dire necessario indispensabile nei periodi più complessi noi non sappiamo ancora quanto durerà le compravendite non sono ripartite in modo clamoroso ci sono timidi segnali i mutui non sono cresciuti anche lì quando vedete le grandi percentuali sui giornali ripartiti i mutui è falso non è vero le compravendite sono ancora poche nel mercato del mutuo ci sono tante attività che hanno poco a che fare con questo e in realtà il valore vero dell'attività e della partnership sta nel fare in modo che questa ripartenza accompagni su entrambi i fronti lo sviluppo di entrambe le attività perché tutto questo è importante perché ancora una volta quando si parla di digitale il digitale in sé che cos'è è uno strumento non è qualche cosa di strano o di particolare il digitale è solamente esclusivamente uno strumento parliamo di quello che è successo al settore bancario perché secondo me ci sono tante affinità con quello che sta avvenendo nel mercato degli agenti la banca ha sempre vissuto il suo valore nella relazione fra il gestore della banca e il cliente e tutt'oggi è così però nel frattempo sono emerse le banche digitali quelle che fanno attività totalmente a distanza e allora quella relazione dov'è? Attenzione non è vero che si è persa si è perso il valore della relazione tant'è che le banche pure digitali cioè quelle che avevano solo attività online hanno incominciato ad aprire sportelli sul territorio perché si sono resi conto che i clienti non si accontentavano di avere semplicemente il servizio online volevano comunque la forza la capacità la conoscenza la competenza della persona credo che questo valga come è successo per le banche perché le attività digitali sono sviluppate molto e si sono sviluppate molto anche con attori esterni facciamo un esempio di Paypal Paypal non è un'istituzione finanziaria non è nata come istituzione finanziaria ma ha aggredito pesantemente il mondo dei pagamenti prendendo uno spazio che prima era della banca cosa ci può fare la banca? poco è uno di quelle situazioni in cui deve capire come affrontare quella situazione qui ci troviamo sostanzialmente in una situazione simile per un agente immobiliare è pensabile poter combattere internet mi permetto di dire no internet diventa uno strumento bisogna capire qual è la modalità giusta per utilizzare quello strumento mantenendo il valore della competenza della persona e lì è stato ricordato prima l'acquisto della casa è un momento complesso è un momento razionale e complicato è una di quelle rarissime fasi della vita in cui non si fa l'acquisto di impulso non si spendono centinaia di migliaia di euro per comprare qualcosa di impulso c'è la necessità di spendere tempo capire perché? perché ci si gioca la vita nell'acquisto di una casa e in quella fase l'importanza dell'informazione è alta e internet in questo gioca un ruolo diverso oggi rispetto a ieri anche lì la facilità di accesso all'informazione c'è qualche dato che aiuta a capire come sono cambiate le cose da qualche settimana fa Google ha trasmesso un'informazione semplice sono diventate più le ricerche via mobile attraverso smartphone e tablet che da pc che da desktop anche lì bisogna riflettere vuol dire è diventato talmente facile talmente semplice accedere all'informazione che dobbiamo essere consapevoli che non si può evitare che il cliente sia più informato continuerà a crescere il livello di informazione del cliente il livello di consapevolezza dei clienti sarà sempre più alto a noi l'importanza di questo passaggio sta nel come affrontare questa situazione nuova e attrezzarsi per gestirla vuol dire per definizione aumentare le competenze aumentare le competenze vuol dire anche diventare più specialisti per essere tutti più bravi a essere specialisti diventa ancora più importante il senso di collaborazione cioè lì dove più agenti sono in grado di affrontare in modo specialistico un ambito la collaborazione diventa un valore enorme perché la capacità di esprimere nei confronti del cliente più elementi di valore è uno di quei fattori che ancora difficilmente il digitale non raggiunge col passare del tempo fra dieci anni probabilmente parleremo di uno scenario ancora più complesso di quello che abbiamo davanti oggi probabilmente alcuni di questi fattori saranno modificati ancora ma la cosa è certa che nei prossimi anni questo è sicuramente un fattore di valore l'utilizzo della collaborazione della competenza la valorizzazione della consulenza al cliente è necessariamente il punto di vantaggio fra virgolette rispetto al servizio puramente digitale che quella componente non è in grado di restituirla forse fra dieci anni comincerà a diventare un tema anche quello bisognerà capire in quel momento quale altro cambiamento bisognerà affrontare ma oggi è così ci siamo già non è una scelta e per questo lo dicevo lo ribadisco con forza perché sono quei tormentoni che a volte è difficile togliere dalle orecchie Biennale ha fatto una scelta forte e precisa la partnership è stata individuata in modo chiaro come l'unica chiave vera di sviluppo che ha la banca la banca da sola non è in grado di andare da nessuna parte l'importanza di gestire bene di lavorare bene in collaborazione è uno dei fondamenti su cui oggi si poggia la nostra attività e quando quando diciamo questo lo diciamo guardando anche a tutto quello che comporta l'integrazione degli elementi digitali perché anche quegli elementi non vanno guardati con diffidenza bisogna capire come farli diventare strumenti a proprio favore anche quando hanno dei risvolti che non ci piacciono sono elementi che devono essere compresi e portati dentro scusate il premessone però mi sembrava opportuno fare la precisazione grazie grazie Andrea Amincolelli facciamo dalle banche andiamo all'assicurazione andiamo da Ermanno Grassi che è il direttore generale di ITAS mutua peraltro mi pare che anche voi sulla digitalizzazione avete molto puntato no? sì sì da sempre forse anche voi primi sì firma grafometrica piuttosto che ma allora il tema è un tema centrale per le compagnie tanto quanto per gli agenti immobiliari tanto più che le compagnie hanno una relazione molto stretta una parte più forte con gli agenti assicurativi in questo caso visto che difficilmente ci sono compagnie con reti di proprietà c'era alleanza un tempo oggi non c'è più e questo ha comportato forse prima di altri settori la partura di un dibattito che è ancora aperto in realtà che vede un tema fondamentale negli anni 80-90 abbiamo vissuto tutti l'esposizione del marketing dedicato al prodotto che dichiarava però cliente al centro dell'attenzione quindi sono sviluppati di fatto dei target dei cluster di prodotti mirando cercando di mirare di attrarre l'attenzione di diversi cluster di clienti oggi è diverso oggi meglio da qualche anno è diverso il cliente di fatto non è il centro dell'attenzione il cliente ha acquisito da solo la propria l'attenzione verso le compagnie verso chi offre servizi in generale attraverso di fatto l'irruzione di internet quindi oggi stiamo tutti orientando stiamo tutti orientando verso il cliente verso l'attenzione del cliente quando in realtà è stato detto anche prima è il cliente che sta chiamando noi in causa qui ci sono a questo punto due modelli che stanno crescendo o meglio più modelli stanno crescendo molti stanno interrogando sulla diversificazione delle strategie commerciali e in particolare che si trova purtroppo in mezzo e quindi l'agente assicurativo che offre che gestisce la relazione con il cliente che offre il servizio è chiamato a fare un salto culturale importante si è parlato prima di digitale quale strumento si è parlato appunto delle opportunità fatte di renetor che ecco quello che sta accadendo nel mercato assicurativo è quello che bene o male vedo viene vissuto molto oggi dagli agenti immobiliari è questo intanto il digitale non può essere contrastato semplicemente chiudendosi a riccio dietro la logica dell'intermediazione non ci sarà almeno per quanto riguarda ITAS non nei prossimi dieci anni una disintermediazione totale del rapporto con chi vuole acquistare un prodotto assicurativo un servizio di fatto però ci sarà l'evoluzione della relazione con il cliente grazie al digitale e ci sarà l'evoluzione del prodotto di fatto il cliente grazie al digitale grazie a internet grazie a questi strumenti di comunicazione può avere più informazioni sa dove ricavare le informazioni è più consapevole e può informarsi quindi può mettere a confronto anche diverse offerte e quello che accadrà anche nel mercato immobiliare sta accadendo quindi a questo punto si aspetta dall'altra parte che ci sia un professionista evoluto che sappia dialogare con lui anche tramite lo strumento digitale ma che poi sia presente nel momento stesso in cui accade e ha bisogno di qualcosa sia in fase negoziale sia nella fase poi recosita post vendita questo rimane fondamentale in più contrariamente a esperienze di mondi diversi che vedono le distanze quale elemento fondamentale di vita da noi attenzione in Italia tolte le grandi città Milano e Roma che vivono una forte disintermediazione soprattutto su prodotti più semplici penso RC Auto di fatto sul resto per il resto vivono ancora attorno ai campanili e quindi vogliono comunque la presenza fisica di qualcuno che rappresenti loro il tema il servizio e qui nasce a questo punto l'evoluzione del prodotto si diceva prima con mi pare forse don l'idea del network in qualche modo un embrione un prototipo lo avete già voi in FIAP avete SERF ed assicurazione che è un prototipo di network che vide più servizi messi insieme su questo tema ci sarà un'evoluzione forte di prodotti noi stiamo lanciando adesso brevissimo un'evoluzione del prodotto dedicato alla famiglia pensiamo proprio all'abitazione che vedrà non più parlare di prodotto abitazione ma una somma di garanzie comprese l'RC auto offerte a questo punto come dire a richiesta del cliente anche tramite l'online ma intermediate comunque una figura di professionista che vedrà la trasformazione del premio finalmente in canone e vedrà all'interno di queste garanzie offerte in termini assistenziali interventi che ne so dell'artigiano 24-24 in caso di necessità scatole nere per rilevazione fumo piuttosto che furto assistenza per anziani assistenza per famiglie e gamambini assistenza per il singolo non dimentichiamoci ci sono tutta una serie di categorie che all'interno dell'abitazione poi hanno necessità diverse perché no inserci dentro anche la figura agente immobiliare che segue dall'inizio fino alla fine tutto un percorso di acquisto affitto piuttosto di dismissione del locale potrebbe far parte di un pacchetto complessivo sì no mentre lei parlava a me veniva in mente è vero la disintermediazione tutto quello che stiamo dicendo e ci siamo detti poi ci sono due cose diciamo ci sono alcuni prodotti per cui disintermediare è molto complicato perché appunto nel reggio auto le facevo l'esempio forse è più semplice se devo fare una buon inza vita diventa molto complicato ci sono strategie e poi non dobbiamo dimenticare come dire il fatto che siamo in Italia dove tutto è più complicato e quindi forse a maggior ragione la mediazione e l'intermediazione è decisiva per capire molti aspetti e districarsi non nelle norme o no? no assolutamente d'accordo diciamo che si stanno profilando due diversi modelli di strategia industriale all'interno del compagno di assicurazione ci sono alcuni marchi anche molto noti che stanno spingendo per la totale disintermediazione quindi cerchiamo di saltare la figura del professionista attraverso un'offerta online anche molto spinta delegando poi al ruolo al professionista un ruolo diciamo di subordine gestione probabilmente della parte sinistra piuttosto di gestione di affari profili di affari molto alti vedi aziende e tutto quello riguarda invece la persona famiglia compagno compagno di intermedia cercano di intermediarlo ma anche a livelli di base di profili di base di copertura reciprofessionale ad esempio cercano di delegarlo al sistema online noi insieme a molti altri profili di compagnie medie se vogliamo medie e grandi compagnie d'Italia spingiamo invece su una forte professionalizzazione dell'intermediario che avrà nel digitale lo strumento ideale per moltiplicare i contatti tanto è vero che abbiamo recentemente acquistato le branche italiane di una delle primarie compagnie inglesi londinesi nata nel 1700 perché perché di fatto dietro questa strategia c'è quella di raddoppiare la forza dei professionisti che operano sul territorio convinti che l'intermediazione e la presenza dei professionisti sul territorio consentano invece di moltiplicare i profitti e quindi le rese è sempre piacevole quando si sente che l'Italia riesce a fare shopping all'estero e non viceversa quindi complimenti a Itas ottenuto Silente e come ultimo intervento quello dei proprietari di Giorgio Spaziani testa allora sentiamo un po' lui rispetto a tanto siamo diciamo quasi in conclusione rispetto alle tante sollecitazioni che ci sono state che cosa pensa ma penso che forse in ogni stavo pensando che in ogni gruppo ci deve essere quello che fa il lavoro sporco io credo che sia stato incaricato implicitamente di fare il lavoro sporco e cioè di parlare di una cosa di come si è parlato sono noioso continuo a parlare dello stesso tema anche ieri tocca parlare di tasse anche stasera perché io ho letto io ho letto nei dati degli agenti immobiliari che sono gente vera come gli iscritti alle associazioni territoriale della confedilizia sono persone che hanno a che fare a loro volta poi con proprietari aspiranti proprietari ho letto questo dato presentato dal presidente Condò che il 51% quindi la maggioranza assoluta ritiene che un fattore determinante il fattore determinante per cambiare in positivo il mercato è quello della fiscalità fiscalità generale fiscalità sulla proprietà immobiliare in particolare bisogna fare questo lavoro sporco perché altrimenti tanti discorsi credo rimangano poi sì diciamo lontani dalla realtà perché i dati di mercato anch'io sono d'accordo non dicono nulla di particolarmente positivo così come io non sono affatto rassegnato dovremmo esserlo forse ma non voglio rassegnarmi al fatto che non ci si riavvicini nemmeno a certi livelli di compravendite presenti in passato nel settore immobiliare quindi per le persone che sono qui presenti noi dobbiamo ricordare sempre ricordare che non c'è stata una crisi ma ce ne sono state due alla crisi generale si è aggiunta quella indotta perché in Italia la soluzione alla crisi è stata individuata nel reperimento delle risorse ricordiamolo perché ne stiamo pagando ancora le conseguenze nel reperimento delle risorse per far fronte alla crisi finanziaria generale poi in particolare in Italia aggravata da alcuni elementi gravando appunto solo su una quasi esclusivamente su un settore che è quello immobiliare questo non può essere ritenuto indifferente le persone che si rivolgono ai presenti per acquistare lo fanno tutti per qualche motivo credo nessuno per divertimento come si può comprare non so un oggettino che si trova su una bancarella comprano la casa per andarci ad abitare la comprano per andare per poterla utilizzare per le vacanze la comprano per poterla affittare comprano il locale commerciale per poterla affittare se tutto ciò non è più possibile non è più conveniente è chiaro che il mercato si ferma e non può ripartire nonostante strumenti innovativi più vari se non si cambia questo si può muovere qualcosa sul mercato ovviamente dell'acquisto della prima casa condizionato lo sappiamo da tanti altri fattori dalla crisi generale quindi dalle difficoltà di accesso al credito dovute non sempre alla cattiveria delle banche ma alla difficoltà di dare garanzie naturalmente può cambiare quello perché quello è un mercato di necessità e prima o poi deve ripartire ma non ripartirà mai quello da investimento finché non si rende quell'investimento o conveniente parlo di locazione abitativa e non abitativa o comunque non tale da essere dannoso perché la stessa casa di villeggiatura che tanti italiani hanno comprato tanti e tanti anni fa non è più conveniente comprarla e tanti italiani stanno provando a venderla quindi io credo non si possa dimenticare questo effetto che io veramente sottoscrivo quello che hanno detto gli agenti immobiliari FIAIP è un elemento fondamentale ma perché è un elemento collegato anche alla psicologia delle persone anche al di là anche al di là degli effetti stessi e dei numeri stessi che in Italia sono stati enormi e inaccettabili come carico fiscale aumentato sul settore immobiliare tutto parlo veramente di tutto il settore immobiliare ma ci sono anche elementi psicologici che non vanno sottovalutati è di oggi di ieri sera ma questa mattina sui giornali una notizia che ovviamente diciamo nel grande pubblico diciamo così un'espressione impropria non è ancora diffusa ma piano piano poi verrà diciamo sedimenterà una nuova proroga consentita ora vediamo come ai comuni sembra una notiziola ma questo cosa vuol dire che in tanti piccoli comuni dove le persone si informano attraverso gli sportelli anche andando sul sito internet se hanno le capacità ma molti sono anziani e non hanno queste capacità hanno avuto notizia di un'aliquota i mutasi hanno pensato che quella fosse quella giusta poi gli viene detto che non sarà più quella oggi il sole 24 ore che dovrebbe essere la bibbia della conoscenza da questo punto di vista si interroga su cosa valga e cosa non valga tutto questo che cosa crea un ulteriore effetto di sfiducia su chi anzitutto su chi ha l'immobile in proprietà e deve pagare queste tasse ma certamente su chi si pone il problema se mettere i propri risparmi su qualche strumento finanziario oppure sullo strumento immobiliare quindi il mercato potrà ripartire speriamo e i numeri veramente sono ancora ridottissimi se cambieranno tante cose ma io sottoscrivo quello che dicono gli agenti immobiliari intervistati potrà ripartire soprattutto se si renderà conveniente far sì che le persone acquistino perché è un fatto puramente matematico cito solo un altro elemento anche Paolo Righi parlava di normativa la gente guarda questo e deve guardare si è parlato anche di certificazione energetica e si è parlato anche di credo lo facessi tu se posso darti del tuo anche pubblicamente di norme sul recupero del territorio e sul non ulteriore spreco del territorio c'è un disegno di legge alla Camera che sta andando avanti lì c'è una norma che ha lanciato un giornale diciamo ha denunciato un giornale solo finora ma poi ovviamente sarà più conosciuta che anche quella apparentemente può sembrare non pericolosa ma che prevede il censimento di immobili definiti sfitti definizioni tutte opinabili sfitti non abitati o inutilizzati una cosa del genere potrebbe sbagliare un aggettivo cosa vuol dire questo innanzitutto avere un'idea falsificata della realtà e cioè immaginare che ci sia una serie di soggetti pubblici pubblici non ne parliamo di soggetti privati persone fisiche o società che tengano volutamente vuoti gli immobili per far sì che poi chissà quale vantaggio possano avere ma in realtà sono come sappiamo ipertassati e in secondo luogo vuol dire diciamo avere il retropensiero di utilizzare o comunque di provare ad utilizzare quelli immobili per non sprecare ulteriore territorio perché ho fatto questo esempio questa norma non è ancora vigente non è ancora in vigore è alla camera e andrà poi in senato e vedremo se riusciremo a farla eliminare ma sono tutti i segnali che portano a far sì che l'investimento immobiliare non abbia quello sviluppo che ha avuto negli scorsi anni non perché ci fosse una legislazione sia così civilistica sia fiscale di particolare particolarmente illuminata ma perché non aveva le storture che ha da qualche anno si è parlato anche di immobili commerciali alla fiscalità enorme che grava su questi immobili perché ce lo possono dire tutti i presenti chi compra più un locale commerciale per darli in affitto nessuno non c'è nessuna redditività si aggiunge a questa situazione anche una legislazione sugli affitti fuori dal tempo che impone contratti di durata incredibile 12 anni o 18 e cosa succede? come per tutte le regole assurde la gente prova ad evitarle nascono questi temporary shop o temporary store completamente in molti casi in modo completamente illegittimo che vanno bene finché dura come si dice nel senso che poi può esserci l'inquilino che ha convenienza e può pretendere di restare in quell'immobile per sempre quindi bisogna snellire la legislazione ne ha parlato anche Paolo Righi nella relazione iniziale anche con riferimento all'abitativo e bisogna diminuire la fiscalità dopodiché si porranno le condizioni perché le persone gli investitori anche che ora comprano magari più all'estero che in Italia anche gli italiani abbiano convenienza convenienza vera ad acquistare e dopodiché non potranno che guadagnarci quei soggetti lo ripeto e concludo che hanno subito due crisi una vera e una indotta quella vera che arrivava dall'estero e quella indotta data da una soluzione sbagliata a problemi che c'erano cioè la soluzione della ipertassazione sulla casa allora grazie Presidente di Confedilizia mi vengono solo due battute poi andiamo a chiudere col Presidente Righi la prima quando le macchine se succederanno prenderanno il sopravvento vediamo magari useranno un algoritmo per abbassare le tasse ma non lo so ho qualche dubbio no poi c'era un titolo qualche settimana fa su D'Agospia a proposito proprio delle tasse a cui si riferiva il Presidente di Confedilizia il titolo è questo Casa Amara Casa in tre anni le tasse sugli immobili sono schizzate del 143,5% da 9 miliardi e 800 milioni di ICI nel 2011 abbiamo pagato 23 miliardi e 900 milioni di IMU TASI nel 2014 la sintesi che ne fa D'Agospia che questi sono numeri è ecco l'austerity di Montiletta che Renzi dice di voler eliminare ma che ormai tiene in piedi i conti pubblici questa è la sintesi allora giusto per ricordarci questi dati che venivano sottolineati da Spaziani Test allora Paolo io intanto ringrazio tutti gli amici e quelli che hanno collaborato a questa tavola rotonda perché con molti di loro abbiamo anche un rapporto di lavoro nel senso che con Confedilizia con con ITAS con tanti di voi ci confrontiamo continuamente io voglio prendere tre spunti quello delle banche noi non parliamo mai di le banche non generalizziamo mai perché abbiamo proprio nella partnership ad esempio con BNL ma anche con altri istituti un lavoro pressante un lavoro importante perché io penso che questo mercato il mercato 2015 2025 sarà un mercato molto divisivo chi prenderà delle scelte e chi prenderà delle altre fino a ora fino al 2008 2009 2010 il mercato era un grande magma si prendevano scelte si seguiva non si seguiva cerchiamo di oggi bisogna definire gli obiettivi bisogna percorrere delle strade precise anche con il rischio di sbagliare anche con il rischio di sbagliare ma ci deve essere un obiettivo perché questo è un mercato che non perdona e se in un mercato che non perdona tu non hai una scelta non hai una strategia hai perso comunque allora io penso che sia importante che per la categoria per tutti gli agenti immobiliari abbandoniamo un attimo FIAIP ma per tutti gli agenti immobiliari avere una strategia mi piacerebbe averla come FIAIP insieme alle altre associazioni di categoria ma facciamo veramente fatica a parlare di futuro di strategie con le altre associazioni allora dico gli agenti immobiliari devono trovare la modalità per dialogare e devono trovare e darsi degli obiettivi gli obiettivi naturalmente non possono essere quelli di fare partnership e accordi con chi vuole disintermediare il mercato questo lo dobbiamo capire molti mi chiedono ma perché non andiamo a parlare con unicredit o con intesa per fare che cosa posto che li conosciamo tutti i dirigenti di questo è un mercato divisivo bisogna fare delle scelte come ad esempio noi in FIAIP abbiamo fatto la scelta che ogni dirigente della federazione siccome c'è una linea politica ben precisa non può se vuole aderire unicredit subito casa a queste cose deve dare le dimissioni perché la linea politica della federazione è quella quindi un senso di responsabilità di chi fa il volontario e vive un momento di associazione ma anche una scelta di coerenza e di grande serietà da parte di tutti i dirigenti lo voglio dire anche agli associati che ci sono il mercato sarà quindi divisivo ma sarà un mercato altamente professionale oggi il fatto che siano qui presenti i maggiori esponenti diciamo di quelle che sono il mondo immobiliare dalla parte del franchising o dalla parte dell'MLS o dalla parte dell'affitto ci dice che cosa ci dà il segnale di una federazione che è aperta al dialogo con tutti che vuole essere inclusiva e non esclusiva perché io penso che il compito di una federazione soprattutto in questo periodo di crisi sia quello di accogliere e di crescere tutti insieme verso l'obiettivo che ci siamo dati poi ci possono essere dei dissidi ci possono essere delle visioni differenti ma una federazione che vede l'altro collega come il nemico o vede determinate forme di lavoro come il male assoluto secondo me è un errore che per troppo tempo abbiamo fatto parliamo con gli altri parliamo la categoria intera deve uscire da questa da questa da questa storia diciamo con un cambiamento perché non so se ve l'ho detto in questi giorni se ne siete accorti la crisi è finita non c'è la crisi questa è la vita vera cioè noi viviamo in questo momento se noi lavoriamo pensando che la crisi passerà in qualche modo sbagliamo obiettivo perché poi possiamo stare qui due anni tre anni sei anni e allora qualcuno ci dice guardate che se fate se fate ancora quattrocentomila compravendite non ci stiamo dentro tutti oppure come Luca che ci dice qualcuno ha resistito fino adesso ma è l'ultimo dei moicani chiuderà fra un anno allora non parliamo più di crisi parliamo di mercato attuale adesso subito parliamo anche dei nuovi strumenti ce l'ha detto bene Ermanno Grassi c'è un mercato che andrà verso la disintermediazione e un mercato che andrà verso la intermediazione con l'aiuto del digitale allora io penso qui a differenza di Dario che a mio parere l'agente immobiliare debba essere sempre più professionale ma non può essere solo intermediazione noi dobbiamo diventare il centro della casa oggi quando un consumatore pensa a casa ha viene in mente geometra architetto prima gli viene in mente tasse imu e tutta questa roba qua poi però se ha un'esigenza pensa a tante categorie bene noi dobbiamo dobbiamo riuscire a crescere diventare il centro il punto di servizi della casa non snaturando il nostro mestiere ma crescendo sulla via che ci indica mincolelli cioè quello delle partnership questo è un mondo dove da soli non si va più da nessuna parte avete visto ITAS Trentino Alto Adige va a comprare in Inghilterra perché? perché crea sinergie allora siccome il nostro centro studi il nostro presidente Dode Satriano ci dice che all'interno delle agenzie c'è 1.9 operatori quindi non due ma uno e mezzo diciamo o qualcosa è chiaro che abbiamo bisogno se vogliamo mantenere il nostro status di ditte individuali o di piccole ditte di fare rete di creare rete e guardate che non grande o piccolo non conta niente e come tu riesci a creare la rete e come tu riesci a importi sul mercato con degli standard con dei modelli e con la professionalità quindi io penso che se questa federazione se la categoria degli agenti immobiliari riesce a usare lo strumento informatico quindi lo smartphone tutto quello che c'è come servizio dall'area al cliente non vedendolo come la soluzione del problema vi informo di una cosa la soluzione dei problemi siamo noi stessi non ce lo dà uno smartphone la soluzione dei problemi quindi è la categoria è l'attività che noi possiamo fare per renderci per renderci protagonisti del mercato e penso che a conclusione protagonisti del mercato lo saremo tutti insieme se useremo quello appunto che ci diceva Micolelli che è il discorso della partnership strategica ci sono come c'era un giudice a Berlino ci sono ancora banche che credono negli agenti immobiliari nella collaborazione grazie grazie tu non hai finito mi sa per oggi no no io adesso passo la parola hai da fare e quindi insomma continua il vostro lavoro noi non vi libererete di me ci vediamo domani mattina per la convention di Auxilia grazie e buon lavoro grazie 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 a tutti grazie a tutti